Le NAIADI sono una priorità della Regione Abruzzo, questa mattina abbiamo proceduto all'ennesima riunione, quella che ho voluto definire ultimativa, definitiva, proprio perché non possiamo più attendere, la Regione non può più attendere, la città di Vescara non può più attendere, la Regione Abruzzo non può più attendere una decisione e una programmazione definitiva su quello che sarà e che deve essere il destino del complesso delle NAIADI. Una ricchezza, ripeto, dell'intera Regione Abruzzo. Non dobbiamo nasconderci più di un dito nel verificare come all'interno dell'Associazione Temporanea d'Impresa ci siano delle discordanze, non c'è più una univocità di pareri, una univocità di programmazione. Non è interesse né compito della Regione di rimere le controverse all'interno di un'Associazione Temporanea d'Impresa che ha soltanto il dovere di aprire il complesso, le NAIADI. Abbiamo dato tempo fino a giovedì, quindi altri due giorni, perché l'Associazione Temporanea d'Impresa si esprima con una univoca definizione di quella che deve essere la programmazione futura, con un'unica posizione in assenza della quale saremo costretti come Regione a riprenderci le chiavi e a rescindere il contratto proprio per consentire a questo bellissimo, a questo gioiello della Regione Abruzzo di riprendere a funzionare. Questa chiusura non può più attendere una evoluzione positiva che stiamo ormai chiedendo a troppo tempo.